Potrebbe essere che anche oggi ti abbiano fatto sentire come se tu fossi un peso. Come se le tue richieste, la persona che sei, quello che desideri, quello che ti fa paura, sia ingombrante per gli altri. E tu, che un tempo provavi a combattere, hai deciso che probabilmente è vero, sei un peso. Che quello che vuoi non conta, che conta di più quello che vogliono gli altri. No. Tutto quello che ti succede, il modo nel quale ti hanno cresciuto, ha indicato con chiarezza che per rendere felici gli altri, devi metterti da parte. E questa cosa ti viene ricordata continuamente. Talmente tante volte che una bugia come questa diventa vera, perché è più semplice. Alle volte le cose semplici sono quelle che fanno più male. Quindi tu devi provare a prendere un respiro, e accettare che gli altri potrebbero rimanere delusi, che gli altri potrebbero dispiacersi, che gli altri potrebbero arrabbiarsi. Ma che tu non sei un peso. Hai il diritto di essere la persona che sei con le esigenze che hai e i bisogni che hai. Perché hai diritto a tutto l'amore del mondo. e chiunque dica il contrario dice molto più di sé che di te.